Anche Cittadella ha festeggiato la 14esima giornata nazionale del Naso Rosso. Per un'intera giornata i volontari di VIP Cittadella, che dal 2002 portano il sorriso tra ospedali, case di riposo, comunità di disabili e ovunque, vissi e sofferenza, hanno animato Piazza Pirobon con balli, spettacoli, trucca bimbi, palloncini e tanto divertimento per far conoscere il proprio mondo, raccogliere fondi e trovare nuovi volontari disposti a regalare un sorriso a chiunque ne abbia bisogno.